Ben ritrovati con l'edizione serale del TGL News in apertura ai gravi disagi che le auto parcheggiate in divieto di sosta creano ogni giorno dalle 13 un quarto alle 13 e 40 in piazza Cittadella a Piacenza. Gli studenti escono dalle scuole e corrono a prendere i pullman che spesso rimangono bloccati con inevitabili ritardi nella tabella di marcia. Non si può andare avanti così ha commentato un autista di seta, le vetture sostano anche sugli spazi riservati ai pullman intralciando il nostro lavoro. Anche i ragazzi sono d'accordo, si creano ingorghi e a volte rischiamo di perdere le coincidenze in una situazione veramente di disagio. Apriamo ora il capitolo meteo secondo la tradizione popolare il 29, il 30 e il 31 gennaio sono i giorni più freddi dell'anno i cosiddetti giorni della merla. Le statistiche meteorologiche contrastano però con il detto popolare. A Piacenza per esempio i giorni più freddi sono inclusi nella prima decada del mese di gennaio. Nei giorni della merla a causa del fenomeno denominato inversione termica si forma la nebbia e la colonnina di mercurio non sale mai sopra i 5 gradi. Fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure.it. Dal fine settimana tornerà invece il sereno anche in pianura ma arriverà una perturbazione artica che provocherà l'abbassamento delle temperature e il ritorno al pieno inverno. Fino a questo momento infatti gennaio ha avuto temperatura sopra la media di oltre 3 gradi, situazione tipica della fine di febbraio. Spostiamoci sulla cronaca e caccia al piromane che ieri sera ha incendiato almeno 4 cassonetti in piena città nella zona compresa tra via Manfredi e via Foresti. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 21 per un primo intervento e poi sono stati costretti a altre 3 uscite nel corso della serata per spegnere le fiamme che qualcuno ha piccato ai bidoni dell'immondizia. Iren nel frattempo questa mattina ha provveduto a sostituire le strutture danneggiate. Ricordiamo che nelle settimane scorse episodi simili si sono registrati anche nella zona di Viale Dante dove oltre ai cassonetti è stato bruciato anche il tendone di un esercizio commerciale. Chiudiamo parlando di sport e delle vittorie contro Arezzo e Pistoiese di Piacenza e Pro Piacenza nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Questi assieme ovviamente a quelli del calcio direttanti saranno i temi caldi che verranno approfonditi questa sera nella puntata delle 20 eventi di zona calcio in onda sottile libertà. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento alle 19.30 con il TGL ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito www.liberta.it